La settimana appena trascorsa con la conferma della zona gialla per la regione Campania, visto ancora una volta le forze dell'ordine particolarmente impegnate nel far rispettare le normative nazionali, regionali e comunali finalizzate a contrastare la diffusione del coronavirus covid-19. Il dispositivo già positivamente collaudato è costituito da un'unità della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza attivamente collaborate da equipaggi dell'Esercito Italiano, della Polizia Provinciale e della Polizia Locale di Salerno, ha assicurato i servizi di vigilanza disposti con ordinanza del questore della provincia di Salerno, d'intesa con i comandanti provinciali dell'Arma Carabinieri e della Guardia di Finanza. Il dettagliato piano di intervento ha consentito di raggiungere i seguenti risultati operativi. 6.883 persone controllate, 2.167 esercizi pubblici controllati, 81 persone sanzionate per mancato uso della mascherina, 4 persone denunciate per inosservanza al divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora poiché in quarantena, 7 titolari di esercizi commerciali sanzionati per mancato rispetto della normativa anti-covid, 2 esercizi sanzionati di cui uno sottoposto alla chiusura provvisoria di tre giorni perché al suo interno venivano trovati numerosi avventuri oltre le 18, orario in cui non poteva essere effettuata somministrazione. Il permanere in zona gialla costituisce un elemento confortante per l'attività delle forze dell'ordine.